Gli acqua con Barbie Girl, questo era il Crystal History delle 8, ben ritornati, ben ritrovati qui a Good Money Milano, sempre qui su Crystal Radio, 96.2 FM, Dub Plus, e poi c'è l'app, c'è il sito, lo sapete, tutte quelle cose lì che ogni mattina vi dico, 3317853555, grazie mille per i whatsapp che ci state scrivendo e tenetevi caldi perché adesso invece è arrivato il nostro ospite, buongiorno a Gaetano Romeo. Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti i radiospettatori che io definisco già eroi, che sono già svegli, attivi dalle 6 di mattina. Guarda che questi sono già arrivati dove devono andare, hanno già fatto cosa questo oramai, siamo noi che siamo ancora qui che dobbiamo carburare nonostante sia venerdì, nonostante siano la quasi centesima puntata, anzi attenzione prendo scusa Gaetano ti rumo un attimo, ragazzi. Volentieri. Viola, confermami, lunedì puntata numero 100 di Good Morning Milano, giusto? Di questa stagione, cioè non di questa stagione, puntata numero 100 tra la stagione scorsa e questa. Bene, quindi si festeggia lunedì, non so come, festeggeremo in qualche maniera. Quindi ho la sfiga di essere il 99. Sei il 99, sei il 99esimo, sei puntata 99 con Gaetano. Gaetano, allora noi oggi parliamo di, anzi direi, di digital e non solo però, nel senso di come il digital in realtà poi fa parte della nostra vita fisica ormai, no? Ormai sì, ormai sì, ormai sì. Quindi l'ottimizzazione, quindi l'ottimizzazione sui motori di ricerca, in particolar modo ovviamente Google, visto che nel mondo occidentale, particolarmente in Italia, usiamo principalmente quasi, con percentuali bulgare, più o meno il 95%, utilizziamo Google come motore di ricerca. Il 95% delle nostre ricerche vanno fatte su Google. Sì, 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 almeno al momento. Voglio conoscere quel 5% che non lo usa, sapere cosa fanno. Ma secondo me quel 5% sono ancora quelli che hanno quegli smartphone del 2016-17 che sono costretti a usare Bing perché sono di Microsoft. Ah, Windows Phone. Esatto, esatto, esatto. È molto probabile che siano loro. Però Fabio, diciamola, ho usato una marea di paroloni, acronimi e robe varie. Perché semplicemente avete un sito internet, dovete vendere qualcosa, il mio lavoro, il lavoro dei miei colleghi è quello di fare trovare la vostra attività quando le persone cercano con delle parole chiave mirate la vostra attività. Ah, ecco, vedi. Quindi, se non trovate qualcosa su Google, non è che dovete chiamare Gaetano perché io non lo trovo. No, e se non vi trovano a voi su Google, che bisogna chiamare Gaetano perché io non mi trovo. Esatto, esatto. Non è, cioè, lui non è il tutto città di Google. Esatto. Esatto. E semmai vi aiuta invece per fare in modo che voi vi... Sì, diamo anche un esempio stupido. Sì, vai, vai. Avete un e-commerce che vende scarpe da tennis, con le varie combinazioni scarpe da tennis uomo, bianche o con i vari brand, non... fate delle ricerche e non trovate mai, non vi trovate mai, allora lì in quel caso avete bisogno di un SEO specialist di attività SEO. Ah, ecco, ecco, in modo che vi trovate la vostra attività. 331-7853-555, arriva già prima un WhatsApp che si dice Grande Fabio, buongiorno d'Ambrogio, patrono di Milano Digitale. Eh sì, il nostro, il nostro Ambrogio ci scrive tutte le mattine, quindi siamo contenti. Beh, allora, stamattina possiamo capire un po' meglio invece su come proprio districarci in mezzo a questo mondo. Tra parentesi, mi hai portato un libro, mi hai portato qui, quindi sai anche scrivere. A me questa è una notizia, no scherzo. No, no, io mi vanto di una cosa. Ah, gli avrei fatto solo la copertina, no? No, chissà. Questo è il mio settimo libro. Settimo libro, infatti io stavo guardando sul tuo, sul tuo sito praticamente è una succursale di Amazon. Esatto. Esatto, esatto. Infatti li trovate tutti su Amazon, è il mio settimo libro, dove tratto principalmente le tematiche legate a digital marketing, ma con un occhio particolare agli algoritmi. E infatti oltre Google, la mia più grande passione è LinkedIn. Mi ritengo un esperto di LinkedIn, soprattutto dell'algoritmo. Non mi riferisco a un LinkedIn trainer, ma una persona che approfondisce e conosce bene l'algoritmo di LinkedIn. E ho scritto due libri. Il primo, l'algoritmo di LinkedIn, che è stato il mio best seller. E adesso questo l'ultimo, uscito il 15 dicembre, quindi freschissimo. LinkedIn marketing, che ho scritto con un'altra persona, Alessandro Canuli, dove io mi sono occupato di tutta la parte organica, quindi non a pagamento, mentre Alessandro si è occupato di tutta la parte delle LinkedIn ads. Capito, capito. No, scusa, ho toccato dentro il cavo come al solito. Però non l'ho detto perché mi vantavo. Perché ho scritto sette libri, tutti prima dell'era di chat e GPT, quindi nessuno mi può dire che li ho scritti con chat e GPT. Quindi è tutta farina nel tuo sacco, perfetto. La prima cosa che abbiamo imparato da questo libro, prima di tutto, è che non si dice LinkedIn. Ecco, già questo è, come che è? LinkedIn. LinkedIn, ecco, quindi se già chiamate, leggete, se già dite, ah, sono su LinkedIn, bene, ci ha fatto il libro e comincia a leggere, perché mi sa che ne hai bisogno. Io ho sentito dire pure LinkedIn, quindi quando mi dite LinkedIn, va bene pure voi. No, perché se ci rifletti, l'inglese è linked, cioè linkato, LinkedIn. Ok, perché si gioca proprio sul fatto di avere i collegamenti, infatti vengono chiamati poi in traduzione in italiano. Allora, adesso noi andiamo un attimo con Sophie and the Giants, con DNA, ma poi torniamo qui sempre con Gaetano e andiamo un po' più nello spattispecie per capire un po' come possiamo anche avvicinarci a questo mondo del digitale senza rimanerne schiacciati, perché poi è questa la paura sempre. Nonostante non sia l'ultima novità, nonostante siano anni che viviamo nel digitale, comunque c'è sempre paura di rimanere schiacciati da questo colosso che è il mondo del digital. Sophie and the Giants, DNA. Sophie and the Giants, DNA. 8 e 15 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano, qui con Gaetano Romeo. Stiamo parlando di digitale. Allora, la domanda è proprio questa, Gaetano, nel senso come facciamo a non rimanere schiacciati dal digital? Perché questa è la paura di molti. Molti, anzi, non si avvicinano neanche perché no, non so cosa c'è, non ho paura, rimarrò schiacciato da quella roba lì. Invece no, anzi, la nostra vita fisica deve essere parallela alla nostra vita digital. Allora, la premessa è d'obbligo. Qui non si parla nemmeno più del futuro, del prossimo futuro. Questo è un totale presente. Questo è un totale presente. Ok, quindi siamo nel presente. La paura la capisco, ma per certi punti di vista è ingiustificata, perché se ragionassimo così un po' anche, ho accennato poco fa a TGPT, no? La paura di tanti professionisti. Cioè, TGPT ci ruberà il lavoro meno. Però, Fabio, è la storia dell'essere umano. A me piace sempre scherzare e dire la storia dell'homo sapiens, no? È fatta di novità, nuove scoperte, tecnologia. Io vengo dall'altro lato di Milano. Se i nostri avi non avessero sempre avuto la voglia di scoprire nuove tecnologie, sarei venuto col cavallo. Invece sono venuto con la macchina. Quindi la paura è giustificata da un lato, ma si deve avere la forza di superarla, perché comunque, attenzione, c'è sempre qualcuno, qualche vostro competitor che non ha paura, approfitta di tutti i nuovi strumenti digitali e vince il mercato, mentre voi ancora state dentro la vostra bottega. Perché la differenza fondamentale fra il fisico e il web, attenzione, il fisico non deve scomparire, deve rimanere. Uno dei più grandi errori, tra l'altro, è sempre quello di dire ormai faccio e-commerce, faccio il web, il fisico non mi interessa più. No, è un errore gravissimo. Rimane, ci sono tante strategie legate al local marketing, local search, il concetto di omnicanalità, tutto sempre presente, però la differenza è che un locale, diciamo, di quartiere, puoi prendere le persone del quartiere, in una città grande come Milano o come Roma, il web arriva in tutto il mondo e non hai più confini, si abbattono i confini. Infatti si parla anche di passaporto digitale, no? È un passaporto dove puoi raggiungere chiunque, puoi vendere il tuo prodotto anche in India, mentre fino a ieri è rifermo al tuo quartiere. Nel libro che mi ha portato, che è LinkedIn Marketing, parli appunto di questo social, più di tutto è un social LinkedIn, è definibile un social o un portale? È un social, tecnicamente è un social, ma è un social diverso, perché lì puoi fare veramente tanta SEO, tanti contenuti, per esempio in pochi sanno che LinkedIn ti fornisce gratuitamente una piattaforma per creare contenuti che è LinkedIn Pulse, che si posiziona tra l'altro molto bene su Google, quindi tu teoricamente non hai neanche bisogno per fare personal branding, per esempio non hai bisogno di aprire un tuo blog, ma puoi direttamente usare LinkedIn. Sono gli articoli che possono scrivere, giusto? Sì, sì, sì. Ricorda un po' medium. Sì, il concetto è quello lì, si posiziona benissimo. Visto che mi hai fatto l'assist, spaziamo un secondo e poi ritorniamo. Quello che in realtà non è un social, che tutti crediamo che sia un social, è YouTube. YouTube è un motore di ricerca, ovviamente legato a video. La cosa simpatica è che tutti lo definiscono un social quando è il secondo motore di ricerca più grande del mondo. Ed è sempre di Google. Ed è sempre di Google, tra parentesi. Il primo è Google, ovviamente, il secondo è YouTube. Prima la mano a destra e poi la mano a sinistra. Ma molti pensano che invece LinkedIn sia solo per andare a trovare lavoro. È il mio curriculum, come fosse un po' MySpace di una volta per le band che cercavano di trovare la serata giusta. Io vado lì, basta che mi iscrivo e faccio bene, metto tutto quello che so fare e troverò lavoro. Non è così. Non è così. Anzi, involontariamente, Fabio, hai fatto proprio un incipit perfetto perché è quello che noi che ci occupiamo di LinkedIn diciamo sempre. LinkedIn non è il tuo CV. Non è il tuo curriculum. LinkedIn parti dal tuo CV ma è per farti notare. Ok. La differenza fra un candidato attivo e un candidato non attivo è fondamentale perché ormai gli headhunter non sono più quelli appunto, visto la tecnologia, vanno. Gli headhunter controllano le tue attività social. Cosa fai? Se sei anche, ahimè, non è bello però se sei politicamente esposto. come ti esprimi sui social, che gergo hai sui social. LinkedIn è la piattaforma perfetta per fare personal branding. Perché comunque se io parlo sempre di un qualcosa, lasciamo stare le attività social, però se sono un esperto di risorse umane, no? Mi occupo sempre di risorse umane, do contenuti sulle risorse umane, do contenuti come risolvere certe problematiche. Perché poi, Fabio, ricordiamoci sempre che le persone cosa cercano? Risoluzione ai problemi. L'obiettivo nostro deve essere quello di intercettare questo intento di ricerca e dare queste risposte. Più risposte diamo, più andiamo a piacere, più facile che veniamo selezionati. Eh, ma qui la domanda poi è però, non sono solo io che gestisco il mio LinkedIn, nel senso che c'è un algoritmo, c'è qualcuno che decide se quello che ho scritto è meno o più importante. Come si fa a capire questo algoritmo? Manco loro secondo me lo sanno, invece tu dici no, si sa e io posso scardinarlo, o meglio, comprenderlo, tradurlo o no? Allora, scardinarlo sarei un po' troppo pretuntuoso e meriterei di essere cacciato in questo momento, perché comunque gli algoritmi, ricordiamoci qualsiasi sia la piattaforma, sono proprietari appunto delle piattaforme e nessuno ne conosce il reale funzionamento e come sai... Ma loro sì, io ho questo dubbio. Le piattaforme stesse sanno come funzionano ormai gli algoritmi o li hanno persi? Ti posso dare la mia opinione? O sono troppo Matrix in questo momento? A pezzi. Secondo me, perché comunque ci sono una serie di ingegneri che si sono alternati nel corso degli anni. Comunque ovviamente per ciò che forza il 99% lo conoscono bene, però è molto probabile che c'è quell'1% che scappi. Per dare qualche consiglio, innanzitutto è fondamentale come compili il tuo profilo. Vedo dei profili scarni, senza informazione. Il profilo appunto non è un curriculum, è la tua pagina MySpace. Quello è molto più corretto. Devi dare tutte le informazioni possibili e immaginabili. Ricordatevi, più, e qui torna la SEO, più scrivi, più keywords prendi, più keywords colpisci, più keywords aggredisci. Quello che dichiari, però attenzione, è il tuo biglietto da visita, e qua andiamo Fabio all'algoritmo, perché? Perché? Quello che dichiari deve essere poi a cascata, sparato nei tuoi contenuti. Ok, quindi se io dico di fare una cosa, poi devo farla veramente, cioè. Se tu dichiari di essere un esperto SEO, che ti occupi di algoritmi, e poi parli delle ricette, Google dice, non è, scusate, LinkedIn dice, non è una persona affidabile. Io faccio girare i contenuti delle persone che sono veramente schillate in quell'argomento, perché attenzione, c'è una grande differenza fra LinkedIn e gli altri social. LinkedIn è una piazza virtuale, come se fossimo in fiera, se siamo amico, qua dietro, e ci scambiamo i bigliettini. Ok. Quindi, a differenza di Facebook, per esempio, che non è morto, poi ne possiamo anche approfondire. Uh, questo lo approfondiamo come, poi? LinkedIn non vuole che tu un contenuto, fai la condivisione, ti dà la possibilità, ma l'algoritmo non piace, vuole che tu commenti, perché più commenti, più c'è engagement in quella piazza. Se invece un contenuto, tu me lo condividi, cosa stai facendo? Lo stai dividendo in tante piccole fette di torta, mentre LinkedIn vuole che tu rimani nella torta principale. Interessantissimo, direi. Allora, rimani qua anche, tu rimani qui sulla torta principale, che è il nostro tavolo, perché adesso andiamo con un po' di musica, e poi torniamo sempre qua. su Cristal Radio, con un mal di Milano, a parlare anche di come Facebook non è morto, cosa interessante. In questo momento ci stanno guardando anche in diretta Facebook, quindi salutiamo gli amici di Facebook a questo punto. Ciao! Ciao! Bruno Rissas, capita così. I per me è tu per te, e io per me è tu per te, e quindi io ti chiedo a te di spiegarmi come, cavolo, dobbiamo fare per far funzionare questi social, o meglio, ormai si dice, lo dicevi prima, Facebook è morto, Facebook is dead, ricordiamo una vecchia copertina che diceva rock'n'roll is dead, ecco, mai morto nel rock'n'roll, e molto probabilmente neanche Facebook sta muovendo, giusto? Anche perché della SEO lo dicono, la SEO è morta, la SEO is dead, almeno, almeno, non voglio esagerare, da dieci anni, e la SEO non è morta, è viva e vegeta, la SEO morirà, la SEO morirà quando la gente smetterà di usare i motori di ricerca. Ah ok, quindi mai. Quindi mai, probabilmente, o comunque, ci sono, con l'intelligenza artificiale, ci sono degli enormi cambiamenti in arrivo, però, da qui a non far usare più il motore di ricerca alle persone, sono ancora molto dubbioso. Per quanto riguarda l'utilizzo dei social, l'avevo detta, lo ripeto, Facebook non è assolutissimamente morto, perché comunque, se andiamo a vedere dati di noi addetti ai lavori, le campagne che facciamo su Facebook, e chi, soprattutto io ascolto, vedo post di colleghi che su Facebook sono molto più bravi di me, anzi, non è il mio, non sono bravo affatto, loro sono veramente bravissimi, dove danno dei dati che obiettivamente ci fa dire che non è assolutamente così. Facebook probabilmente, in termini di entrata per le aziende, rimane ancora il canale più importante lato social media, che poi tu, Fabio, dietro, insomma, quando eravamo in pausa, canzone, dicevi una cosa interessantissima. Ah, vedi qualcosa che è interessante, peccato che lo dico fuori onda. Esatto, esatto. Registrami, quando siamo fuori onda, che noi rimandiamo. però te ne voglio dare atto e la ricordo qui e non la faccio mia e di Fabio Ranfi, questa qui, che giustamente dice, e io sono pienamente d'accordo, come si fa a dire che Facebook è morto quando in realtà, si dice, ci siamo i boomer, che tecnicamente è anche sbagliato, però siamo quelli con potere di spesa più alto. Sì, non nel mio caso, ma sì. Comunque, in generale, siamo... Ah sì, come si chiamavano? Big Spender, non c'era un nome tecnico, penso, una cosa del genere. Big Spender, che in italiano abbiamo coniato la parola altospendenti. Ecco, vabbè, non so cosa è peggio. Esatto, esatto. Comunque sì, il concetto che dicevi è correttissimo. Cioè, il concetto è che quelli che hanno i danè non stanno su Instagram a fare i like e TikTok, ma stanno su Facebook ahimè, Gattini e compagnie bella, abbiamo tanti soldi ma non è che abbiamo elevato molto il livello della conversazione, però è quella roba lì. E invece sembra apparentemente che invece le aziende e tutto il mondo della comunicazione dicano no, però bisogna andare sulle nuove generazioni, sui giovanissimi, su quelli che fanno milioni di like, che però poi, adesso non me ne voglia Viola e la sua convricola regia di super giovani, non hanno i soldi per affitto. Però poi c'è nel senso... Sì, tristemente sì e poi anche da dire che comunque il like è buono quando è legato ad una metrica che porta delle entrate per l'azienda. Il singolo like se non porta entrate allora è una metrica sbagliata. Quelle che poi chiamiamo vanity metrics, cioè metriche della vanità, sì, ho preso in quel posto, ho preso un milione di like, ok, che revenue ha avuto? 100 euro, non mi serve a nulla, ok? Questo è molto importante. Come è importante partendo dalla tua domanda iniziale, imparare ad usare i social in maniera corretta, non sono tutti uguali, ogni social ha il suo pubblico di destinazione diverso, non potete fare copia e incolla su LinkedIn, Facebook, Instagram, è il nuovo Trez che ne parlavamo anche fuori onda, o mettiamoci ancora il vecchio Twitter, X, quello ci dimentichiamo ogni tanto. Ogni piattaforma è diversa, ogni piattaforma ha un tipo di comunicazione diverso, ogni piattaforma ha un target diverso e quindi dovete gestire e creare il vostro piano editoriale in base al pubblico di riferimento. Il fatto è che alcune di queste piattaforme siano in mano poi alla stessa azienda, questo cosa comporta invece? Niente dal punto di vista dell'utilizzo è solo, oppure c'è, solo siamo in mano a tre invece che a dieci, oppure anche nel momento dell'utilizzo, anche nel momento della reputazione sui social questa cosa può influire? Allora, la prima domanda, cioè l'ultima domanda ti dico no, non influisce il fatto che la stessa piattaforma probabilmente ti riferisci a Meta, a Facebook, Instagram, a Trez. C'è anche Whatsapp volendo, quindi comunque... Sì, diciamo un leggero Whatsapp assolutamente sì, un leggero vantaggio ce l'hai su Trez perché ti porti i contatti di Instagram. Quindi diciamo da lì cresci subito. Diciamo Trez è una versione molto simile al vecchio Twitter, il nuovo X, così come diciamo l'ha voluto chiamare il suo nuovo proprietario. E lui è fissato con la X. Lui è fissato. cosa che fa ci mette una X la prima Tesla si chiamava X suo figlio ha delle X nel nome. Qua la dico e qua la nego come si suol dire ma probabilmente fra qualche anno avremo la più grande case history di un grande fallimento come distruggere un brand. Vedremo, vedremo però i risultati e i dati in questo momento dicono non dicono altro che questo ovviamente insomma è un maschera quello che ha fatto dei miracoli che nessuno pensava quindi chissà cosa si terrà fuori chissà cosa lui vede che noi non vediamo magari. Assolutamente sì tra l'altro la grande capacità almeno la dico personale di vendere delle macchine per carità a livello tecnologico belle ma dal gusto estetico che lascia nel tempo che trova io e quindi comunque tanto di cappello come imprenditore lungi da me dire qualcosa contro però e quindi mi dicevi che appunto il fatto che siano tutte le piattaforme insieme cioè non è un problema anzi nel caso punto di Trez si può aiutare Trez è uno di quei misteri invece che forse anche tu fai fatica a comprendere cioè uno ne avevamo bisogno due perché tre come allora rispondiamo subito alla domanda ne avevamo bisogno la mia risposta abbastanza secca no nonostante ci sono e non ti dico l'utilizzo Fabio provo ad utilizzarlo ah ok ok se anche il professionista lo troviamo un po' in difficoltà nel capire come si usa pensate voi eh sì è fantastico perché così siamo fra amici lo diciamo così anche si può dire non dico una parolaccia ma qualcosa di un po' più spinto mentre su facebook e linkedin in particolar modo un engagement altissimo instagram e così così oh Fabio su Trez non mi caga nessuno cosa dice lunga però appunto non è detto che se sei qualcuno da una parte quella cosa continui dall'altra parte sto provando l'ebbrezza di prendere zero like ah non male benvenuto nel club che a volte mi chiedevo credimi mi chiedevo vedevo dei post di alcune persone ma non si accorge che non lo caga nessuno perché continuano a postare su facebook vuol dire che neanche tua mamma e tuo papà ti mettono like e ci sono e ci sono su Trez ho capito veramente che cosa si prova a subire questa umiliazione la mia la mia risposta è che appunto è più un social per viola il suo club ah vedi ok quindi è più per i giovani che vedremo come faranno a comprenderlo magari meglio meglio di noi di base quello che io so che tu hai sempre anche professato in giro è il fatto comunque che nonostante ce ne siano 180 ormai di social bisogna in una maniera dell'altra essere però presenti su tutti differenziando però i contenuti giusto allora più che essere per forza presente su tutti presente su quelli che sono utili per il tuo percorso professionale ritieni che possono essere utili ma essere presenti vuol dire essere attivi perché essere presenti senza essere attivi non serve a nulla quindi io per esempio personalmente sono attivo direi al cento per cento su linkedin dove lì do il massimo non sgarro mai sono presenti ogni giorno facebook ho ridotto molto la pubblicazione perché fino a poco tempo fa due tre anni fa facevo l'errore del copia e incolla quindi anche tu l'hai avuto in questo momento sì ma i dati poi perché comunque un professionista del settore deve essere capace di analizzare i dati come si dice data driven dobbiamo essere guidati dai dati i dati mi dicevano che non funzionava che non andava bene i dati mi dicevano che gli unici contenuti che prendevo da linkedin e portavo su facebook che andavano bene erano quali quelli per esempio oggi quando mi darai il materiale sì io farò un post sono stato in radio ospite di fabio ok e quello piace ho fatto uno spiccia budapest ok quindi diciamo l'eccezione nella tua quotidianità sì il vedere la vita del professionista del professionista attenzione e sottolineo di nuovo perché poi arriverò al prossimo quindi non tu tua moglie figli quella cosa lì quello va tanto su instagram ecco ok ecco vedi almeno parlo della mia persona quello va tanto su instagram cioè io metto qualcosa ho fatto su instagram ho fatto uno spiccia a budapest bellissimo anche perché c'è la cosa che è in lingua inglese quindi di più se mi va bene faccio 20 like ok mentre se metto la foto con i miei bambini arrivo a 200 like ecco vedi va bene allora viola cominceremo a fare foto in regia con te da mettere sul mio instagram così faccio più like va bene ti uso come fossi la figlia che non ho in regia va bene facciamo una cosa del genere ma come età siamo lì eh sì no come età siamo lì c'era per affittore elementari viola quindi insomma siamo lì eh quanti anni ha viola viola del classe 2003 giusto classe 2003 21 anni fatti da poco viola potrebbe essere una mia studentessa dell'OIED ecco io insegno anche all'OIED lì potrebbe essere una mia studentessa tecnicamente potrebbe essere mia figlia tranquillamente facendo conto che io sono del 79 sì potrebbe essere tranquillamente siamo lì siamo lì e allora invece è la bravissima producer che ogni giorno è protagonista di questa trasmissione cioè viola ormai tutti i giorni parliamo di te veramente fa un po' adesso metterò un cartonato tuo qui in studio così almeno sei qui presente sempre con me invece che stai in regia insieme a tutto il resto posso spezzare un avance a favore di viola bravissima stiamo parlando di una ragazza del 2001 2003 2003 che si sveglia alle 5 di mattina quanti lo fanno bravissima brava viola poi ti dico la verità non si sveglia così presto do me qua allettino qui sì più o meno più o meno andiamo con la musica invece anche lei giovanissima bravissima nata a Milano viaggio negli Stati Uniti vissuto a New York e poi è tornata qua per fare il suo grande successo musicale sto parlando di Rose Villain con Click Boom Rose Villain Click Boom e finché fate il click va bene se fa boom il computer c'è un problema invece e su quello neanche Gaetano può intervenire lì non può farci niente neanche Gaetano invece su come fare i click giusti quello invece sì su quello sì si può aiutare stiamo parlando di mondo digital stiamo parlando di algoritmi stiamo parlando di come è quella cosa che intanto si lo dico per molti professionisti che arrivano e ti arrivano i pop up le cose sei il primo su Google finirai primo nelle liste di Google ma non credere mai tra l'altro tanti venditori che chiamano proprio le aziende oh sì sì le chiamano state molto attenti intanto non è Google direttamente perché Google non vi chiama anche se vi arrivano mail e state attenti a queste promesse ho fatto una telefonata con Google una volta è stato sorprendente c'era un problema su un Google Places e mi hanno chiamato è stato bellissimo salve siamo Google ma Google ti chiama se tu hai già un account attivo ma non ti chiama per fare promozioni o cose del genere chi chiama per fare promozione chi ti chiama è perché ti vuole vendere qualcosa e soprattutto Fabio ci tengo a precisare che nessuno nessun professionista Gaetano Romeo compreso può garantire il posizionamento su Google nessuno può garantirti chiamola bene questa Gaetano perché sono molti invece quelle che ti chiamano dicendo vuoi essere primo ti garantiamo la prima posizione su Google nessuno ve lo può garantire anzi nel momento in cui vi diranno ti garantiamo la prima posizione è il momento in cui dovrete scappare ecco perché non è assolutamente possibile tant'è che Fabio una delle frasi più famose si fanno anche tanti meme nella comunità social è dipende è un problema dipende sì perché la SEO comunque prende in considerazione circa 300 fattori cioè Google per posizionare un Google è un Google un sito prende in considerazione 300 fattori ma di questi 300 fattori come facciamo noi a capire qual è quello giusto quello sbagliato quello che ha un peso più grosso lavoro lavoro test lavoro test sul campo e proprio per questo possiamo dirvi mi sento veramente forte e confidente di poter parlare al nome di tutta la comunità SEO italiana che nessuno può garantirvi il posizionamento su Google nessuno insomma i cialtronici sono ovunque quindi state attenti perché insomma anche qui ovviamente anzi magari con il fatto che ne sapete poco ne approfittano di più se volete sapere di più invece ci sono i libri di Gaetano 7 abbiamo detto 7 il Signore degli Anelli e Harry Potter messi insieme una cosa del genere ma ne mancano due per farne nove infatti beh ma tanto arriveranno sicuramente c'è qualcosa in cantiere non freschissimo ma c'è qualcosa qualcosa in cantiere sì vorrei fare qualcosa sull'intelligenza artificiale ecco ecco non credo che mai si metterà a scrivere libri di ricette quindi insomma diciamo ecco anche questo la coerenza è fondamentale sì ma non ti nascondo che ho un sogno di scrivere un romanzo un romanzo magari ambientato nel sì perché non ci dimentichiamo che sono laureato in lingue quindi sono laureato in umanismi visto che sei tanto di digitale perché un bel romanzo ambientato nel metaverso eh sarebbe interessante una storia d'amore nel metaverso metti un asterisco in fondo da uno suggerimento di Fabio Ranfi nel caso se lo scrivi magari ti faccio scrivere qualche capito elementare che diceva che scrivo malissimo comunque no saluto la mestra Cristina le porteremo una copia infatti infatti stiamo per chiudere invece quindi ricordaci un po' tutte le coordinate per sapere meglio della tua attività e anche dove trovare appunto i tuoi sette libri tra cui quello che mi hai portato qui questa mattina LinkedIn Marketing trasforma il tuo profilo in un potente strumento di promozione allora sì semplicissimo la dico proprio banale banale basta scrivere Gaetano Romeo su Google e trovate tutte le informazioni è primo su Google sono primo su Google beh forse diciamo che con Gaetano Romeo se non eri primo su Google si sono primo su Google mentre tutti i miei libri tranquillamente li trovate in tutte le librerie d'Italia ma se viene più facile sono tutti su Amazon e anche lì scrivete Gaetano Romeo vi vengono tutti fuori questo qui è Maggioli Editore per la collana Digital Generation di cui sono anche il direttore di questa collana la collana della collana sono il direttore per questo scritto sette libri perché io li faccio io me li approvo beh non male non male non male mi ricordi qualcuno che fa una trasmissione in radio la mattina dalle sette alle nove su Crystal Radio ma che poi si decide vagamente Fabio la vogliamo dire l'ultima cosa romantica che ti avevo detto Fabio per me è un pezzo di vita importante perché lui non lo ricordava ovviamente non lo sapevo io l'ho ricordato io Fabio insieme a un piccolo gruppo nel mio cuore eletti sono state le prime persone quindi Fabio è stato una delle prime persone alle quali ho fatto un corso SEO parliamo di 13-14 anni fa è stato il mio primo corso SEO dove c'era anche Fabio e pensate ci ho anche capito qualcosa cioè quello che è sconvolgente poi devo dire la verità come sempre come fa Fabio in questo caso ma mi sono arrivato a parlare in terza persona di me stesso come Pasquale del grande fratello infatti è intelligente ma non si applica nel senso che poi mi ha dato delle bellissime informazioni Gaetano ma poi è devi un bravissimo studente tra l'altro ma non le ho applicate poi il tempo è quello è quello devo imparare perché c'è da dire questo tutto quello che noi raccontiamo tutto quello che Gaetano racconta nei suoi libri poi dovete applicarlo dovete avere il tempo per dedicarle a queste tematiche provare fallire try and fail credo sia ormai lo sponsor e poi dipende come dicevamo prima quindi capire cosa non funziona metterlo a posto e ci sono tutte le ricette ecco effettivamente tu scrivi libri di ricette comunque sono ricette sono ricette algoritmiche ecco infatti Gaetano grazie mille davvero di essere qui con noi grazie a te grazie a tutti noi ci risentiamo presto sicuramente aspettiamo anche il prossimo libro quindi verrai qui sicuramente a presentarcelo e seguitelo Gaetano Romeo su Google trovate tutto e poi seguitelo su LinkedIn dove è veramente super attivo grazie Fabio grazie a tutti e a prestissimo e andiamo avanti con la musica lei ha vinto Sanremo quasi inaspettatamente no forse ci aspettavamo è stato il fatto che un grande pezzo scritto anche insieme a una grande artista che è Madame questo è Angelina Mango con la noia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti